Mentre la guerra di cifre tra comune di Napoli e regione sulle tunnellate di rifiuti in strada non accenna a placarsi, l'amministrazione di Ervolino cerca nuove aree su cui far sorgere siti di trasferenza atti a salvare Capre e Capoli in vista di una nuova stagione turistica che si annuncia fallimentare. L'allarme lanciato dagli albergatori sul flop del periodo pasquale ha armato la penna del primo cittadino di Napoli che ha immediatamente scritto al presidente della regione campania Stefano Caldoro affinché si acceleri sull'iter per l'apertura di nuove discariche. La proposta di Palazzo San Giacomo non si è fatta attendere scatenando già le proteste dei comitati della rete. Archiviata ormai l'ipotesi scampia il sindaco ha infatti rintracciato nell'area di Napoli S la possibile location per il sito di trasferenza. Una corsa contro il tempo mentre ormai la città soffoca sotto le più di 2000 tonnellate di spazzatura. Grazie a tutti.